siamo a terra dei consoli per il campionato nazionale trofeo franco bevione on the tea gregorio de leo o finisco la canzone arrivo sull'evento costante a terra dei consoli per un altro grande appuntamento della federazione italiana golf si giocano i campionati nazionali maschili trofeo franco bevione che chiedono ai ragazzi costanza e fisico olimpionico il campo chiama un gioco lungo e importante un mix tra potenza e precisione dove alcuni t-shot possono davvero fare la differenza i più forti della nazionale sono tutti in alta classifica con qualche nome nuovo che mostra i muscoli ai veterani spingendoli a fare molto molto di più gregorio de leo non parte nel team leader ma fa parlare di sé un mini leaderboard dopo la 9 lascia il segno e fa presa a giro un mostruoso giro sotto par chiuderà infatti l'ultimo round in 64 colpi mettendo in discussione strategia pazienza e swing di chi lo precedeva è giovanni manzoni a dover fare i calcoli dopo le prime buche giocate con una sola sbavatura e con un ottimo game da tea a green manzo marinaio navigato allora prova subito a spingere con buoni pat scende sotto par per poi gestire il vantaggio nel finale il birdie alla 17esima buca gli da sicurezza non forza lo swing alla 18 e controlla alla perfezione il torneo chiudendo con due colpi di vantaggio su gregorio che dire giovanni la tua crescita costante ed esempio per molti compagni della nazionale ed il tuo atteggiamento pacato elegante e sportivo crediamo possa lasciare il segno per molto tempo ma bravo greg ci avevi promesso tempo fa una grande prestazione ed il 64 non ti preoccupare è un segno indelebile che fa intuire qualcosa di più su di te meno 9 e meno 11 e così via forse non ce ne rendiamo conto ma sono score importanti su un percorso che chiede molto allo swing in italia si formano i campioni ed iniziamo a sentire il profumo di un'altra ondata di futuri professionisti per il tour maggiore a questo punto buone vacanze o buon gol scegliete voi Giovanni Manzoni ha appena vinto il campionato nazionale maschile trofeo bevione come hai giocato oggi? oggi ho giocato abbastanza bene ho giocato un gioco lungo regolare ho imbucato dei buoni putt verso la fine ho sbagliato qualche colpo ho sentito un po' più la tensione però alla fine sono riuscito a vincere oggi faceva molto caldo c'era vento come andavano gestite queste situazioni? oggi faceva molto caldo però il vento su questo campo diciamo che mette sempre un po' in difficoltà bisogna stare pazienti e gestirlo bene sono riuscito a fare pochi errori e alla fine è andata bene quando ti sei accorto che potevi vincere la gara e lo shot of the day? diciamo mi sono accorto verso la 16 avevo 4 colpi di vantaggio anche se ho tirato un brutto colpo in acqua e invece il colpo più bello della giornata è stato il secondo colpo alla 17 che sono andato 4 metri dietro l'asta col secondo a chi vogliamo dedicare la vittoria? ma dedico questa vittoria alla mia famiglia al mio maestro e a tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo e lei? la ragazza? la ragazza non c'è complimenti Giovanni sei il nuovo campione italiano grazie swing your life